Mauro Scardovelli, giurista, psicologo, sociologo, hai inanellato una serie di competenze nella tua vita che farebbero invidia, che in questa stagione specialmente sono fondamentali per comprendere l'interrelazione fra le cose. Mauro Scardovelli, è un piacere averti ospite su bioblu.com. Buongiorno. Buongiorno. Anche per me è un piacere essere qua, perché seguo da parecchio tempo il tuo canale e lo trovo una delle cose più interessanti che vengono pubblicate sulla rete. Ti ringrazio Mauro, ma tu hai fatto un'analisi del neoliberismo dal punto di vista psicologico, cioè come il neoliberismo si è insinuato nelle nostre teste addirittura a livello di narrazione, a livello di linguaggio e come ha cambiato le nostre vite. Puoi farci una ricostruzione. Sì, tanto ti dico perché me ne sono occupato. Io non sono mai stato interessato particolarmente all'economia, ma a un certo punto, essendo io uno psicoterapeuta e conducendo gruppi e conoscendo diverse persone, ogni anno vengo a conoscere circa 100, 100, 200 persone nuove con i gruppi e alcune di queste persone le seguo per anni, alcune le conosco ormai da vent'anni, ho visto che qualcosa negli ultimi 20-30 anni, soprattutto negli ultimi 20, era cambiato. Era cambiato proprio nel modo di ragionare delle persone, cioè dette in due parole, in modo molto semplice e popolare. Beh, le persone sono diventate più egocentrate, pensano soprattutto a se stesse, meno pronte a condividere con gli altri e spaventate di fondo, spaventate del futuro. Il che non è una novità, ce lo sentiamo dire tutti i giorni. La paura, che cosa succederà? Ci viene detto che, esempio, un filosofo come Gallimberti dice con molta chiarezza, oggi il futuro non è più una promessa. Quando io ero giovane il futuro era una promessa. Uscendo dall'università ero sicuro che se avrei trovato lavoro non era nessun problema, si trattava di vedere quale. L'unica cosa che mi ponevo come limite è non venire qui a Milano. Ecco, perché io nasco in Liguria, amo il mare e le montagne e per me trasferirmi qui sarebbe stata una difficoltà, ma per il resto era facile. Oggi noi sappiamo che i giovani frequentano l'iceo, poi l'università e hanno davanti la prospettiva della disoccupazione cronica o della sottooccupazione. Allora, questo incide molto molto serio sulla psiche delle persone e posso, se vuoi, vado molto più in profondità, perché in effetti bisogna capire come questa svolta neoliberista abbia cagionato una trasformazione appunto della psiche. Intanto chiariamo subito che questa trasformazione della psiche non è una sorpresa per i neoliberisti. Margaret Thatcher dice chiaramente in un'intervista che il nostro obiettivo è cambiare il cuore e la mente delle persone, perché si adattino al nuovo sistema. E già Lippmann, Walter Lippmann, nel convegno Lippmann del 1938, 1938 a Parigi, alla fine di agosto, 26-30 agosto, in quella occasione Lippmann era un pubblicista americano, uno scrittore molto noto, un autore seguito in ambito della politica, era stato invitato in questa conferenza a Parigi allo scopo di trovare una nuova soluzione per la crisi del liberismo, perché allora liberismo era in crisi. Ecco, Lippmann, fatta questa premessa, poi se vuoi approfondiamo questo tema, che è un tema tra l'altro poco conosciuto, e mi accorgo i miei colleghi universitari, ma poi i nostri allievi e così via, in effetti della storia del liberismo, nell'io il liberismo, sanno pochissimi. Allora Lippmann, nel 1900, già negli anni 30, diceva che un compito fondamentale oggi è adattare le persone al sistema cambiato, al sistema mondiale dell'economia, ma già in quegli anni lì, perché diceva, altrimenti le persone saranno dei disadattati. Quindi affinché non siano disadattati e possano, come dire, essere partecipi anche felici della grande società, la società dello scambio, della mancanza di confini che si prevedeva, del libero scambio, della globalizzazione, bisogna che certe tradizioni che abbiamo ereditato dai nostri genitori o tradizioni religiose, se ne vadano dalla mente, perché noi dobbiamo capire che siamo in competizione gli uni con gli altri. Questa è una nuova società e questa società si fonda appunto sulla concorrenza di tutti contro tutti. Quindi sapere che i neoliberisti ben avevano chiaro questo sin dall'inizio e che quindi la trasformazione della psiche non è qualcosa che è avvenuto in contrario alle loro previsioni, anzi, proprio questo volevano, perché la loro idea fondamentale, se vuoi, dedico qualche minuto a questo. Cioè negli anni 30-38, in questo convegno, il neoliberismo era in crisi ed era, cominciava a crescere la visione keynesiana dell'intervento dello Stato nell'economia. Allora il neoliberismo originariamente è, lo Stato non deve intervenire nell'economia, si deve diventare uno Stato minimo, piccolo così, perché lo Stato quando interviene crea danni. Nel senso che l'intervento dello Stato in ogni caso, in ogni caso, fa sì che il libero mercato, che sarebbe il modo migliore perché i cittadini siano informati su come stanno andando le cose, venga in qualche modo, come dire, deviato dalla retta via. Quindi ogni intervento dello Stato, per i neoliberisti, è una perversione di un sistema che di per sé sarebbe perfetto, cioè quello della libera concorrenza e del sistema dei prezzi. Che è un po' lo Stato di natura, se vogliamo. Che loro ritengono sia lo Stato di natura. Ecco, l'Illipman dice, attenzione, noi, almeno io e altri come me, non siamo per tornare a quel neoliberismo lì, perché sappiamo benissimo oggi, che lo Stato di natura non è mica quello. Lo Stato di natura magari non lo conosciamo, ma quel neoliberismo, l'Essefer, cioè tutto libero, in realtà era conseguenza di determinate leggi, di un ordinamento giuridico che aveva creato un mercato fatto così. Non esistono mercati non regolati, possono essere regolati per essere in un modo, essere regolati per essere in un altro. Quindi Lippman diceva, i vecchi neoliberisti che vogliono l'Essefer, Stato minimo, non hanno mica capito, sono diventati dei gran conservatori. E mentre l'iberismo originariamente aveva una grande forza nel essere un movimento innovatore, portare nuove possibilità, un rivoluzionario, pian piano si era trasformato in una specie di vecchio conservatore nostalgico che manteneva le posizioni così come erano, cioè i privilegi. Perché Lippman parla proprio di privilegi, di certe categorie. Per Lippman non era un autore che voleva la prevaricazione dei ricchi sui poveri, assolutamente, così nei suoi libri. Nella giusta società, parla, sottolinea, giusta, ci deve essere un sistema in cui non ci sono delle lobby che prendono il potere sugli altri, quindi riducendo lo spazio democratico. Allora, per Lippman è molto chiaro che vuole un ordinamento giuridico, e quindi lo Stato ci vuole, molto Stato anche, che garantisca la libera concorrenza, per dirtela in tre parole. È come se dovessimo andare a fare una partita di calcio, tu hai una squadra e un'altra. Beh, per tutti e due è interessante che ci siano delle regole del gioco, perché se no, se le regole del gioco non sono chiare, le partite non funzionano. E chi è più propotente vince la partita, chi si porta una mazza ferrata a un certo punto vince la partita. Quindi, il tema è che la visione di Lippman e di altri è intervento dello Stato nell'economia, ma ai fini di creare una competizione corretta. La vecchia scuola, von Hayek, von Mises e altri, la scuola austriaca, dicono no, 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 per carità, questo non è possibile, perché anche un intervento in questo modo non funzionerà. Dove ci mette mano lo Stato, le cose si deformano. Insomma, nel convegno Lippman si evidenziano due visioni radicali del neoliberismo, che sono tutto sommato in contrasto. Una che vuole lo Stato al servizio di regolare la concorrenza, e un altro che dice non c'è bisogno di regolare niente perché la concorrenza, appunto, come dicevi tu, è uno Stato di natura e funzionerà da sola. Ecco, questo è il primo passaggio da capire. Poi ce ne sono le guerre. Nel 1947 il kinesismo, cioè l'intervento dello Stato nell'economia, a favore della redistribuzione, ci dobbiamo chiarire bene che nell'economia ci sono due grandi filoni. Quella classica che ritiene, adesso dico proprio cose di base, però così gli ascoltatori almeno condividiamo questo, su queste basi poi capiremo il lavoro sulla psiche. La classica che vede nella legge di Sei, un punto irrinunciabile, dice l'importante è che noi produciamo. Quindi l'importante è l'offerta. Se noi offriamo dei prodotti, la domanda si crea da sola. Questa è l'opinione di Jean-Baptiste Salih, Sei che ancora in parte è mantenuta. Per Keynes la grande rivoluzione keynesiana è momento, ma non è mica vero. Noi produciamo e magari a un certo punto rimangono vuoti perché non c'è più domanda. Quindi la redistribuzione della ricchezza tra i lavoratori è essenziale perché le imprese possano funzionare. Allora la lezione keynesiana oggi non è più dimenticabile e ricordiamoci che Keynes era un umanista, era una persona che non era certo un uomo di sinistra, non è che aveva nessuna simpatia per il socialismo, però era una persona giusta, una persona che aveva una visione filosofica, una persona molto colta e per lui era insopportabile vedere massi disoccupati e sofferenti. Per cui l'intervento suo, già a partire presto perché Keynes interviene già durante il trattato di Versailles, era presente durante il trattato e vide con che superficialità degli uomini di Stato trattavano il destino di interi popoli. È scrisso un libro importante che si chiama, che parla proprio le conseguenze economiche della pace. Ecco, è un libro toccante perché fa vedere un uomo colto di una famiglia ricca, di una famiglia accademica, amico di uno dei più grandi economisti dell'epoca, Marshall, che è uno dei sintetizzatori dell'economia liberista, che proprio in conseguenza di un moto di compassione comincia a pensare l'economia in un modo diverso. Sai, nel 29 c'è stata quella grande crisi, una disoccupazione spaventosa negli Stati Uniti e Keynes comincia a diffondere le proprie idee fino ad arrivare a parlare anche con Roosevelt. E Keynes, ripeto, questo è molto importante dal nostro punto di vista perché noi immaginiamo spesso gli economisti come freddi, calcolatori, che pensano i numeri e basta, ma sono degli esseri umani. Sono gli esseri umani, alcuni di loro particolarmente interessati al destino dell'uomo. E Keynes era uno di questi. spesso si sente dire, giustamente, oggi gli economisti sono come dei medici e noi ci rivolgiamo a loro per capire come curare i mali dell'economia, perché l'economia ci riguarda tutti. Ora, chi ha una pratica clinica sa benissimo che un conto è lavorare con un paziente che non ha problemi economici, un conto è lavorare con un paziente che è stato appena licenziato e che non ha prospettive future. Andargli a parlare del rapporto con i genitori, quello che è successo con la famiglia quando era da piccolo, insomma, non sono cose centrali alla sua vita, perché non ce la fa arrivare a fine del mese e perché non capisce come potrà pagare l'affitto e la paura della miseria. Allora, anche negli studi di psicoterapia ormai l'economia entra. Mi spiace che molti colleghi non se ne occupano, ma credo che, spero presto, gli psicologi saranno una voce forte nel mondo di oggi per far capire quali sono i disagi che questo tipo di economia sta producendo sulla psiche umana e soprattutto su quella dei più giovani. Allora, Keynes, per questo siamo interessati a Keynes, Keynes era un uomo che aveva una passione per la giustizia e per il bene delle persone e quindi si è messa a studiare l'economia in altro modo. Effettivamente Keynes ha compreso che se i lavoratori non venivano riconosciuti nella loro dignità e nelle loro esigenze, questo non era un problema solo dei lavoratori, ma era un problema di tutta la società. Perché se i lavoratori non hanno soldi, chi è che acquista i beni? Ecco. Ora, noi sappiamo, la storia ce l'insegna, che il capitalismo quando non riesce più a soddisfare non ha un mercato nel proprio paese e lo cerca da altre parti. Crea modelli imperialistici, colonialisti e questi modelli si diffondono. Ma c'è un punto di saturazione, anche quelli a un certo punto non funzionano più. Quindi viene fuori il tema Keynesiano. Allora, se i lavoratori non hanno prodotti? Punto interrogativo. Ecco, questa è la grande rivoluzione keynesiana. Ora ci sono stati due grandi titani dell'economia nel Novecento che sono scissi il campo, divisi il campo. Uno è Hayek, scusa, uno è Keynes che, diciamo, ha avuto alterne fortune, ma crescenti fortune, diciamo, dopo gli anni trenta e c'è creato intorno a lui a Cambridge una schiera di allievi proprio con cui lui conversava molto spesso e che sono diventati economisti molto conosciuti. Quindi Keynes non ha lavorato da solo. È molto interessante. Keynes, quando lavorava intorno al suo capolavoro, che è stata la teoria generale, si confrontava spessissimo con i suoi allievi. Quindi anche lì si vede come c'è un afflatto democratico in Keynes, una tendenza ad estendere le sue capacità a far formare degli allievi. Dall'altra parte abbiamo avuto un altro personaggio con fortune diverse, che è von Hayek. I due hanno cominciato a entrare in rotta di collisione. Keynes scrive la teoria generale, Hayek la critica, in modo molto pesante, e poi scrive un libro importante che è la via della schiavitù. Va bene, adesso parlo per cosa. Allora, Keynes, le preoccupazioni di Keynes, le preoccupazioni di Hayek apparentemente non sono molto diverse, ma le soluzioni sono diametralmente opposte. E dal punto di vista psicologico è interessante, perché Keynes era un uomo che aveva una fiducia positiva negli esseri umani. Hayek no. Questa fa differenza abissale. La visione che Hayek aveva dell'uomo è la visione dell'io obesiano, cioè di fidenza, avidità, gloria. Questo è l'io obesiano. L'io a cui pensava Keynes è l'io aristotelico, cioè dell'io che è socievole, è relazionale, è collaborativo. Le due visioni del mondo, perché è interessante, questo, le due visioni del mondo si scontrano attraverso due personaggi che hanno compiuto una lotta titanica tra loro. Senza esclusione di colpi, eh. Si trattavano anche con parole molto dure, però, vedi, la scuola di Cambridge, dove abitava Keynes, è una scuola dove la disputa, anche molto severa, anche dura, non crea però inimicizia. Quindi sono due personaggi che comunque si sono rispettati. Ed è molto interessante vedere come, verso la fine della vita di Keynes, si ritrovano durante la Seconda Guerra Mondiale insieme sul tetto di uno dei college di Cambridge, con degli attrezzi insieme, perché stavano cadendo delle bombe incendiarie, e se si prendono in tempo le si butta via, non distruggono il casale. E quindi questi due uomini, che si sono combattuti per tutta la vita, si trovano insieme nella stessa battaglia contro la guerra, in questa cosa. È molto interessante il rapporto, appunto, psicologico tra Keynes e Hayek. Ora, adesso vi ti ho accennata due visioni della vita. Uno, proprio due visioni dell'io completamente diverse. L'io obesiano, che è un io a cui credono molte persone oggi, molte persone ritengono, ma l'essere umano è fatto così, è fatto di avidità, si muove solo per il proprio interesse. Homo hominis lupus. Eccolo lì. Altri, forse meno, dicono, no, questo è un uomo corrotto, non è il vero uomo. E poi lì. Ora, queste due visioni, perché è un'esperienza clinica, sa che sono decisive per la formazione della psiche. Perché? La prima visione, quella di Hayek, è una visione che si appoggia su una convinzione, che appunto non mi possa fidare di nessuno. Perché? Perché io sono guidato da interessi egocentrici, egocentrati, tu anche. Adesso siamo qui, in questo studio. Finché i nostri interessi possono fare così, ci comporteremo in modo umano. Ma non deve capitare che i nostri interessi facciano così, perché sennò veniamo allo scontro. E lo scontro può essere, in questo caso si vede che è più forte, che ha più intelligenza, che è più forte fisicamente, che ha più mezzi, che ha più soldi, e così via. Ora faccio una parentesi per entrare poi più a profondità nel modello psicologico. Oggi dalla psicologia conosciamo, dalla psicoterapia sappiamo che ci sono cinque decisioni, che se noi abbiamo al nostro interno nessuna psicoterapia può funzionare. La prima di queste decisioni è proprio questa, non posso fidarmi di nessuno. Pensa paradossalmente, se io non posso fidarmi di nessuno e tu sei il mio terapeuta, e perché mai dovrei fidarmi proprio di te? Quindi oggi sappiamo che o cambia questa decisione, e magari col tempo che ci vuole, la terapia alla fine non avrà effetto, perché questa decisione se ne porta poi dietro altre, fare tutto da soli, ognuno per sé, e di oggi, controllare tutto, visione ossessiva, quindi pensa solo l'incremento continuo di norme burocratiche, che sempre di più ci chiudono in una gabbia, non possiamo quasi più fare niente liberamente, no? Sono tre decisioni. Poi punire gli altri, punire i propri genitori, se non siamo in grado di far quello rimediamo punendo noi stessi, quindi alcune persone vanno in psicoterapia perché fanno una vita terribile, in quanto non sanno che la la loro rabbia, la loro aggressività la stanno rivolgendo contro se stessi. Non sanno nemmeno magari che odiano i genitori in modo molto forte, e così via. E poi non sanno che c'è un'altra decisione che è quella di non crescere, cioè non diventare adulti, di rimanere piccoli. Bene, il neoliberismo, facendo un po' velocemente, sembra che abbia studiato a fondo la psicologia, studiato. E se voleva renderci inermi, incapaci di ogni reazione, si può dire che ci sia riuscito, perché in fondo questa visione dell'uomo sta diventando dominante. Cioè molte persone sottoscriverebbero, almeno per una parte di sé, gli assunti che ti ho appena detto, che non ci si può fidarmi nessuno, che non si può delegare niente perché sennò gli altri fanno i pasticci, che devo controllare tutto, che sono pieno di rabbia, di odio, di rancore. E naturalmente magari non so che questo odio e rancore tenderà a portarmi a giudicare gli altri in modo molto malevolo e sentirmi in diritto di punirli. E poi l'altra comunque non crescere, perché tanto non ci si riesce. Insomma, con queste cinque decisioni, potrei partire da lì ma posso partire da qualunque altro punto, il neoliberismo è riuscito in qualche modo a creare un quadro psicologico che ci rende ostili gli uni agli altri. E questo è il primo grande tema di cui poi magari... Tutto questo Mauro come si traduce nella narrazione, nel linguaggio dei nostri tempi? Andando sul concreto, ci sono degli esempi che possiamo fare anche nel linguaggio televisivo, nella narrazione commerciale, di tutti i giorni, nel modo in cui parliamo con le persone, come abbiamo integrato e interiorizzato la scuola del neoliberismo dentro di noi? Beh, la scuola del neoliberismo basta ascoltare le parole più in uso, è un ottimo investimento affettivo, vabbè, è vecchia questa, ma... Il capitale umano. I crediti formativi, il capitale umano, cioè Fusara ha fatto una lunga elenco di parole così, che indicano proprio come ormai l'economia, il linguaggio economico non è più riservato al settore dell'economia, ma... Abbia pervaso. Pervaso il linguaggio corrente, poi il linguaggio bellico, no? La lotta, la guerra contro, bisogna la competizione che diventa spesso una guerra vera e propria, guerra economica, cioè una guerra portata avanti con i fini dell'economia e della finanza. I giornali sono pieni di bollettini di guerra, lo spread è diventato il bollettino di guerra, accidenti è salito, è sceso, stanno tutti lì in timore. Ora, se la vediamo da un punto di vista dell'economia altra, non quella mainstream, che viene raccontata oggi e che ci ha ipnotizzato tutti, il discorso sul debito pubblico, il fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, il fatto che dobbiamo stringere la cinghia perché se no le cose si mettono male e andiamo in default, il fatto che lo Stato non può spendere a deficit, sono e queste e tante altre, sono tutte stupidaggi, nel senso che è chiaro che se entro in questa gabbia diventano vere. Allora che cosa è successo? Siccome i neoliberisti avevano bisogno di creare un sistema ordinamentale, un ordinamento giuridico che rendesse le loro proposizioni vere, loro ci sono riusciti. Adesso è chiaro che se lo Stato facesse più spesa pubblica, mettiamo che lo faccia, adesso con i vincoli europei non lo può fare, ma mettiamo che ce ne liberiamo. Improvvisamente il popolo italiano si risveglia, si legge i libri di Bagnai, si legge i libri di Baracaracciolo, si legge, segue il tuo blog, si legge i libri di Paolo Maddalena, di Marco Mori e di altri, a un certo punto si comincia, ma siamo finiti, usciamone. Usciamo dal sistema euro che chiaramente ci penalizza, ma non usciamo mica dal neoliberismo, rimaniamo sempre all'interno della gestione da parte dei nipotini di Von Hayek. Quindi cosa vuol dire? Vedi, se lo Stato aumenta la spesa pubblica di 100, questi soldi vengono dati ai lavoratori, i lavoratori vanno a comprare il pane, il burro, la cioccolata, le automobili e così via. Quindi i soldi ritornano in circolo e per il moltiplicatore keynesiano la spesa dello Stato poi può ritornare attraverso le tasse. Dobbiamo tener conto di una cosa, che oggi gran parte dei beni che noi compriamo non sono mica prodotti in Italia, gran parte sono prodotti all'estero o comunque ci sono aziende che anche erano prima italiane e adesso sono di proprietà straniera, le quali gran parte di quello che entra lo portano fuori. Quindi già solo questo ci indica che senza un ritorno a uno Stato sovrano dell'economia, quindi uno Stato che abbia il controllo della propria moneta, della propria della fiscalità e del coordinamento dell'economia, questo coordinamento dell'economia significa anche dire io sono disposta ad accogliere queste merci, queste merci no. Cioè anche se oggi parlare di protezionismo può attirarsi addosso l'ira funesta delle cagnette a cui avete sottratto l'osso, però voglio dire... Per citare De Andrè. Ecco, per citare un grandissimo coetaneo, mio compagno in scuola di un anno o due più grande di me, ma nel liceo stessa classe, Andrè. Ecco, è chiaro che, come dice bene Marco Mori, come dice Maddalena, come dicono le persone che hanno studiato queste cose, dovremo, come popolo italiano, avere una classe di governo che abbia le idee molto chiare perché dovremo ritornare a una condizione in cui questi soldi non vengono continuamente drenati via dalla finanza. Ecco, oggi la finanza internazionale, secondo alcuni, sta drenando tra il 40 e il 50% della ricchezza mondiale, che è una cifra piuttosto alta. Per conferirla dove? Dentro la finanza stessa. Quindi la finanza si autoalimenta per poi i coloro che lavorano la finanza diventano ricchi anche di beni reali, perché facciamo per capirci sul debito. Il debito. Se io faccio un debito con la banca, la banca fa un click e mi dà 100.000 euro e mi compro una casa. La banca non fa un grande sforzo a fare un click e mi dà 100.000 euro. In quel momento lei ha un credito e io un debito. E quel momento quel credito di per sé è credito di un altro click fatto da un'altra banca, magari non mi restituirò delle monete. Però mettiamo che io non ce la faccio a pagare il debito e che la banca mi prenda l'appartamento e se lo venda. Si vende e si acquista un bene reale. Quindi fa un click e mette un bene, un pezzo di carta, ma poi alla fine questo pezzo di carta se non gli viene restituito, il soldi diventa un bene reale. O per allargare il discorso sul debito pubblico di uno Stato, in ragione di questa teologia del debito pubblico, si dà luogo alle privatizzazioni che espropriano un Paese, dei suoi beni strutturali, delle sue aziende, delle sue imprese e le conferiscono nelle mani della speculazione internazionale, dei grandi fondi di investimento, dei capitalisti. Esattamente. Quindi allora questo discorso lo lascerei agli economisti che anche nel tuo blog hanno fatto discorsi chiarissimi, hai avuto ospiti bagnai, hai avuto credo anche galloni, credo non so, cioè ce l'hai più, anche Giacchè penso che ce l'hai avuto. Giacchè ancora no. Ancora no, ti manca, va bene. Comunque, questo nucleo di economisti le cose le ha studiate molto bene e ci hanno spiegato come stanno le cose. Adesso quindi io ritornerei un pochino al tema che invece in cui c'è una più mia specificità. Allora, quando io era al liceo i miei compagni di scuola non erano dei competitor, erano persone con cui collaboravano e con cui si diventava amici. Oggi ho dei ragazzi che mi dicono, tanti ragazzi del liceo che mi dicono, io vado al liceo, ma il liceo non è un luogo di amicizia perché ognuno deve fare i conti col proprio capitale culturale. Quindi gli altri non sono degli amici con cui scambiare. A me è capitato come docente universitario vedere questo, che degli studenti che erano venuti a lezione, la volta successiva rifiutavano di dare i propri appunti a un studente che non era venuto. Cioè non c'era più nemmeno tra studenti la collaborazione, c'era la competizione, ognuno per sé. Ecco, adesso ti vorrei raccontare qualcosa di un pochino più profondo. Parlavo l'altro giorno con una ragazza che ha avuto per uno o due anni una crisi molto seria, molto grave, quasi psicotica. La madre, una donna veramente aperta, col cuore grande, una persona che ha educato i suoi figli creando loro una base sicura molto grande, quindi una fiducia nel mondo, si trova improvvisamente con in casa una sorta di nemica. Sua figlia non la riconosce più. Quindi non parla più con la propria madre. Fino a qualche tempo prima c'era un rapporto d'amore molto grande. Dopo questo rapporto d'amore si è infranto perché questa figlia frequentava un liceo dove la competizione era altissima. E lei, essendo giovane, ha preso su di sé questa visione e ha detto dentro di sé, io per poter sopravvivere nel mondo non posso fare come mi ha insegnato mia madre, cioè essere così. Se io sono così verrò scarnificata, mangiata viva. Qui bisogna lottare. E si è messa a studiare come una pazza, 15 ore al giorno, cioè trascuore il continuo studio. Sua madre cercava di riportarla a un senso di equilibrio, ma lei vedeva in sua madre un nemico. Un nemico perché? Perché lei vedeva nella possibilità di incrementare la spropria conoscenza, attenzione, non una conoscenza di cose che amava, ma una conoscenza di cose che per lei erano irrilevanti, ma che doveva raggiungere quella conoscenza per poter essere domani, poterla spendere sul mercato del lavoro. Quindi già a 16-17 anni questa ragazza si è trovata di fronte all'incubo di essere una disoccupata vita e quindi ha cominciato ad entrare in una situazione di ossessività molto forte. La madre era molto preoccupata. Bene, questa ragazza fortunatamente si è risvegliata da questo incubo e ha potuto fare una conversazione con me in cui mi ha spiegato molto bene che cosa succede ai ragazzi in quella condizione. Questo audio verrà diffuso sulla rete perché per molte persone è difficile capire come mai i ragazzi si chiudono così. I ragazzi non si fidano spesso dei genitori perché i genitori non vengono più visti come esempi da seguire. Se non sono genitori che sono diventati ricchi, che hanno sfondato, questi genitori vengono visti come persone che anche loro sono fragili e che non possono garantirli. Quindi neoliberismo anche familiare. Comunque questa visione della competitività nell'istruzione è una visione condivisa anche da un celeberrimo professore del MIT John Negroponte, io ho assistito a un suo speech, si dice così qua, anche il linguaggio l'abbiamo ereditato, qui a Milano in cui proprio parlava della competitività che a scuola sarebbe deleteria. Quindi anche gli esami, i voti, la competizione sui voti, addirittura voleva abolire gli esami che sono assolutamente inutili. Quindi c'è qualcuno che nel mondo si rende conto che questo sistema è malato e andrebbe modificato, ma ahimè è talmente pervasivo che poi è anche difficile per chi sente questo disagio, questo malessere, rendersi conto che ha ragione lui e che non è semplicemente un pazzo isolato. In questo senso io volevo farti questa domanda. Abbiamo oggi uno dei nostri mali, oltre a quelli che tu hai citato, è anche secondo me l'eccessiva specializzazione. Abbiamo economisti che sono bravissimi magari e sanno solo di economia, tecnici che imparano a menadito il manuale delle istruzioni, scienziati che si specializzano sempre di più ognuno nella sua malattia. Gli informatici, non ne parliamo, io ho un'esperienza passata, gli informatici si specializzano ognuno nella sua branca, nel suo ramo, a livello di sistema operativo, a livello di device, ognuno chi sa fare le app sa fare solo quelle. Tutti diventano bravissimi, mai come prima, nello specializzarsi. Il punto è che si perde la visione d'insieme e un corpo umano che è molto specializzato, in questo caso parliamo di un corpo umano sociale molto specializzato, come riesce a sopravvivere? soltanto se c'è una forte interrelazione, se c'è una visione d'insieme. Ma oggi come oggi questa visione d'insieme dov'è? Chi ce l'ha? Se ognuno pensa esclusivamente al suo piccolo orticello è chiaro che il corpo va alla deriva. Allora, in questo senso figure come la tua sono, secondo me, la strada, l'indirizzo da seguire perché hanno maturato diverse competenze in diversi settori e riescono, in questo modo, a metterli in relazione. Magari, non è il tuo caso, però magari non si approfondisce nello specifico fino all'ultimo capillare una singola disciplina, però se ne ha una visione d'insieme che si riesce a mettere in relazione con tutto il resto. E tu cosa ne pensi? Cioè, la società ha in questo modo questa continua specializzazione che è anche una deriva scientifica, no? Perché la scienza ovviamente ha fatto un lavoro eccezionale, ci ha permesso di realizzare conquiste, però come, diciamo, side effects, come lato secondario. Le controindicazioni. Le controindicazioni. Come controindicazione ha il problema che tutto diventa esclusivamente, estremamente categorizzato. Quindi come se ne esce? Vabbè, credo che hai toccato il centro del problema. Mi avviso, concordo totalmente su questa osservazione. Non a caso tu sottolini questo probabilmente proprio perché hai fatto l'esperienza di consultarti sempre con un numero piuttosto ampio di persone e quindi doverti confrontare con diversi punti di vista. E giustamente dici, ma se oggi siamo tutti specializzati e ognuno vede santo così, ma chi avrà la visione insieme? Ecco, perché senza visione d'insieme ognuno dà la sua ricetta. Oggi accade così in medicina, anche in medicina. La stessa medicina è formata di persone che ti dicono, ti fanno diagnosi e sono molto spesso del tutto contraddittorie. In parte questo non è rimediabile perché un medico può avere delle visioni un po' diverse. Però alcune volte le visioni contraddittorie sono dovute a teorie, no? Sono modi di osservare il mondo che ti portano una persona a vedere le cose così e un'altra a vederle così. Immagino assolutamente una medicina come può essere quella cinese. Una volta sono andato da un professore dell'Università di Pechino e mi ha fatto una diagnosi che non c'aveva niente a che fare con una diagnosi occidentale. Sono due mondi completamente diversi. Allora, torniamo al punto. La specializzazione scientifica è andata sempre più avanti e ci sono persone, ci sono autori che parlano, in particolare Lukács parla di idiotismo specialistico. È un pericolo. Idiota chi è? L'idiota è colui che pensa soltanto a se stesso, pensa soltanto dal suo punto di vista. Allora, se io penso soltanto dal mio punto di vista come psicologo, dopo un po' lo devo approfondire sempre di più perché io certe cose non le capisco. Basterebbe che io parlassi con un economista e certe cose le capisco abbastanza in fretta. Ma per fare questo il problema è che l'economista dovrebbe avere la pazienza di parlarmi in un linguaggio a me comprensibile come psicologo e viceversa. Ora, se i linguaggi si complicano di smisura, per cui persino un fisico non riesce a parlare con un altro fisico se non è della stessa branca, invece che il problema di cui parlavi prima è sempre più serio. Quindi questo è un primo passo. La cosa è adesso un altro passaggio che volevo dirti è approfondire, la visione profonda è molto utile. Dal punto di vista tecnico abbiamo potuto raggiungere risultati che sono inimmaginabili senza l'approfondimento tecnico e specialistico. Però una cosa dobbiamo accentuare. Abbiamo fatto passaggi avanti enormi giusto nell'ambito delle scienze tecniche, delle tecno-scienze. Qui anche solo in questo studio abbiamo una tecnologia che trent'anni fa era inimmaginabile. Sarebbe costato più di un palazzo avere una cosa come questa. Ecco, quindi i successi che abbiamo ottenuto in quel tipo di scienza non sono stati altrettanto grandi di quelli che abbiamo ottenuto nelle scienze umane. Perché nelle scienze umane potremmo addirittura dire che nel mainstream siamo tornati quasi indietro, anzi negli ultimi trent'anni seriamente indietro. Perché accettare una visione dell'uomo distorto, patologico come uomo normale, anzi come l'uomo a cui bisogna affidare i destini del pianeta, beh credo che più giù di così non si può arrivare. Sai che c'è stato un numero dalla rivista Wall Street Journal in cui c'era un articolo che spiegava che i migliori investitori sono quelli con danni cerebrali. Coloro che soffrono di difetti di empatia. Allora c'è tutto un movimento della scienza da tempo, che non è solo da adesso, che dice una scienza che non abbia anche una componente empatica e etica può diventare veramente pericolosa. Questo pericolo noi l'abbiamo sottovalutato. Se andiamo a vedere la storia della scienza, lì è molto interessante, c'è un libro che consiglio a tutti di leggere, che è Il Tao della Liberazione, un grande testo di un teologo americano ben noto, Leonard Boff, in cui insieme a un altro autore fa la storia proprio della scienza moderna, di come la scienza moderna sin dall'inizio ha operato una netta scinzione tra il maschile e il femminile, cioè tra il pensiero più maschile, in termini junghiani, e il thinker, cioè colui che soprattutto ragiona con il sfero sinistro, sequenziale, logico, o col pensiero femminile che è più un pensiero in cui nutrito da emozioni e sentimenti. Attenzione che oggi rischi che ti danno del sessista se dici queste cose. Sì. Ecco, allora lì basta che uno si vada a vedere Jung e capisce che l'unico caso in cui l'uomo e la donna sono diversi in campo dei tipi umani, i tipi umani, è questo qua. Attenzione, vorrei essere chiaro. Tutti noi abbiamo una componente maschile e una femminile. La componente maschile e femminile come abbiamo organi genitali che fino a prova contraria sono diversi. Questa differenza non è un impoverimento, è una ricchezza, perché la natura funziona per biodiversità. Quindi ben venga l'organo maschile, ben venga l'organo femminile, ben venga una propensione femminile, ben venga una propensione maschile. Questa propensione femminile non nasce mica a caso. Noi, fino a prova contraria, nonostante qualunque teoria gender che uno possa mettere in piedi, non siamo ancora mai riusciti a partorire un bambino. E sicuramente il nove meno in una pancia non ce l'abbiamo avuto e probabilmente non ci riusciremo. Adesso dico una battuta che mi ammazzeranno, tranne Vendola direi, Vendola c'è riuscito. Facendo grogno. Scusa. Se noi andiamo a vedere cosa succede durante la gravidanza e subito dopo, una delle cose proprio subito, le donne durante la gravidanza tendono ad avere una regressione emotiva all'infanzia. Tendono e uno dice come mai? Ora tutto ciò che c'è in natura qualche ragione ce l'ha, perché se no non ci sarebbe più, c'è la selezione di ciò che funziona. Allora, la regressione all'infanzia emotiva serve alla donna a recuperare quei vissuti infantili che gli consentono, quando poi il bambino nascerà, di poterlo comprendere a un livello di risonanza empatica. Ora, cari signori maschi, questa risonanza empatica è un tipo di intelligenza, perché se noi maschi, magari dediti al computer, ai numeri, eccetera, vogliamo acudire un bambino, sembriamo, se ci rimanteniamo con quella visione, gli diventiamo dei deficienti, andremo a trovare sul computer cosa bisogna fare un bambino quando piange in quel modo. Ma una madre non ha bisogno di fare delle ricerche scientifiche per sapere cosa fare col bambino. Gli esempi sono le madri africane che sono ancora, quelle madri africane che sono ancora dentro le tradizioni comunitarie, in cui una madre africana viene considerata cattiva madre se il bambino che si tiene sulle spalle tutto il giorno gli fa la pipì addosso, perché vuol dire che non se ne accorda, vuol dire che una madre comprende il bambino attraverso la risonanza e la risonanza affettiva. Guarda che in Oriente ci sono due tipi di conoscenze, parlando proprio grosse, una si chiama avidia e l'altra si chiama prajina. L'avidia, da alfa privativo più vid, vedere, vuol dire ignoranza. L'altra, prajina, vuol dire conoscenza per risonanza, cioè in pratica fondamentalmente la conoscenza femminile in occidente. La conoscenza femminile per risonanza non è che non c'è nei maschi, c'è anche quella. È un pochino di meno perché il maschio non è obbligato a mantenere un bambino nella pancia e a cudirli i primi giorni di vita. Una madre sì, quindi la sua funzione, la vita è diversa. Allora, prajina in Oriente viene detta anche la vera conoscenza della realtà, perché la conoscenza per risonanza vuol dire che io mi metto davanti a un albero, mi metto in risonanza con quell'albero lì e io comprendo l'albero non perché nomino l'albero. Dico questo è un faggio, questo ha otto anni di vita, è alto sette metri, così. Non entro nei concetti ma entro in risonanza e lascio che il mio corpo fisico, semplicemente guardando l'albero, sappiamo che l'osservare produce dei movimenti interni del corpo, mi dia dei messaggi da dentro che mi informano su qualcosa di quell'albero che non potrei mai sapere attraverso il suo sistema del calcolo. Allora, questo tipo di conoscenza femminile è la conoscenza che dovrebbe essere quella primaria, poi c'è quella secondaria che invece la logica, il calcolo, i concetti e tutto quello che noi maschi sappiamo fare tanto bene, neanche le messe femminili. Ecco, invece nella società odierna si tende esclusivamente a privilegiare il lato anaffettivo. Anzi, addirittura ho letto che ci sono degli investitori aziendali, dei grandissimi imprenditori che stanno teorizzando delle nuove figure di lavoratori alle quali venga perlomeno insegnato, che vengano educati a non avere reazioni affettive di alcun tipo. Addirittura, insomma, si parlava di questo nell'ambito di esperimenti scientifici o di evoluzioni tecnologiche che possano produrre questo effetto. Ma, insomma, se creiamo un tipo di lavoratore che sempre di più sarà simile alle macchine, la domanda è, ma allora stiamo agevolando il percorso di sostituzione dell'uomo con la macchina? Poi non lamentiamoci se è l'intelligenza artificiale a fare il grosso del lavoro mentre gli uomini sono a spasso. Il che andrebbe anche bene se ci fosse una situazione di ridistribuzione del reddito e della ricchezza, ma siccome questa il mondo insegna che non ci sarà. Mi ricordo per esempio quando l'informatica divenne di uso comune insieme anche a internet e si teorizzava che grazie all'informatica avremmo potuto lavorare di meno, perché potendo anche lavorare con un computer portatile da casa, magari qualcuno poteva lavorare dai caraibi con i piedi nel mare, invece abbiamo imparato con il tempo che abbiamo siamo stati totalmente assorbiti, abbiamo lavorato di più. L'uso dei telefonini, degli smartphone non significa poter gestire il lavoro in mobilità e quindi in meno tempo, ma significa portarsi il lavoro anche a casa e sottrarlo e rubarlo al tempo della famiglia, al tempo libero. Seguendo questa logica, questa direzione, rischiamo di sostituire tutto lo strato, il substrato umano di questo pianeta con un substrato di calcolo meramente aritmetico. Eh sì, è chiaro che è così. È un pericolo enorme e direi che più che un pericolo è la realtà che si sta generando, comunque proprio riprendo le parole tue. Educare dei lavoratori a non provare emozioni vuol dire educare dei lavoratori ad essere disumani, cioè non umani. Ora, quando noi diciamo di una persona, è quella una persona veramente umana. Cosa intendiamo? Intendiamo di solito che è una persona affabile, aperta, che è capace di ascoltare, generosa, che è empatica, con cui è piacevole anche confidarsi, di cui ci si può fidare. Sono queste ed altre che in Oriente vengono chiamate le qualità dell'essere. Dell'essere cosa? L'essere umano, ma se andiamo a vederele puoi anche chiamare le qualità dell'amore. Sono tutte sfaccettature di un'unica grande qualità dell'essere umano, avere il cuore aperto, una qualità di una buona madre o di un buon padre che ha questo. Ecco, questo che dovrebbe essere il valore centrale per poter creare una società giusta, ti ricordo l'esempio, Keynes era una persona col cuore aperto, provava compassione, per quello si è creata un'economia che è andata incontro ai lavoratori. Keynes era un uomo altrettanto intelligente, ma diffidava. Questa diffidenza gli deriva dalle sue esperienze famiglie, dall'educazione ricevuta. Quest'altra educazione ha creato un altro tipo di economia, un'altra visione della vita. Quindi noi crediamo che gli scienziati si formino in modo assettico, ma non è assolutamente così. Cioè prima di diventare scienziati noi siamo esseri umani che ci realizziamo affettivamente, creiamo una base sicura, interiore, affettiva, quindi siamo felici di relazionarci con gli altri, siamo aperti e questo è anche la base di una felicità durevole, di fondo. Poi incontriamo i problemi della vita, ma di fondo abbiamo fiducia e fondamentalmente abbiamo relazioni tendenzialmente felici. Ora chi è educato in un altro modo, perché ha avuto delle madri traumatizzate, dei padri traumatizzati, questa base sicura, questa fiducia di fondo non ce l'ha. Non avendo questa fiducia di fondo, anche poi quando cresce, va all'università, comincia a fare un'attività anche scientifica, se la porta dietro. Quindi noi, compresi i filosofi, la storia della filosofia, potremmo dire che oltre alla storia del carattere sociale delle comunità, è anche la storia del carattere dei filosofi. Kant ha scritto così anche perché aveva una tendenza piuttosto ossessiva, tant'è vero che, è di controllante, tant'è vero che gli abitanti di Königsberg, quando lui usciva di casa metteva l'orologio a posto, perché tutti i giorni usciva alla stessa ora. Quindi, a seconda del tipo di essere umano che siamo diventati, poi si genera un tipo di pensiero più propenso a vedere le cose in un modo o in un altro. Oggi è uscito un libro magnifico, un po' lungo da leggere, impegnativo, ma che si chiama La nuova ragione del mondo, di Dardot e Laval. Allora, in questo libro la nuova ragione del mondo vuol dire il nuovo tipo di pensiero che ormai domina in tutte le latitudini, ed è quello di cui stiamo parlando. È un tipo di pensiero che si radica nella competitività, nella concorrenza di tutti contro tutti, ma ancora prima c'è la diffidenza, ancora prima c'è l'ostilità, ancora prima c'è la paura. Quindi, perché io possa competere con altri cercando di portargli via delle cose, devo essere in parte almeno un uomo già distorto, perché altrimenti ho una naturale empatia per cui se vedo che qualcosa che io faccio produce del male a qualcun altro, tendo a fermarmi. E questo non lo fanno solo gli esseri umani, ma lo fanno anche altri esseri animali, esempio delle scimmie, sono gli sti perimenti sulle scimmie che se metti una scimmia con una levetta, preme la leva, ottiene il cibo, ottiene una gratificazione di altro tipo, se accanto gli metti un'altra gambia, con un'altra scimmia, che quando lei prova piacere perché schiaccia quella levetta, quell'altra soffre dopo un po', la scimmia che schiaccia la leva la smette. Noi vogliamo educarci a non essere più impatici, cioè a schiacciare un tasto del computer anche se so che questo tasto provvederà 100 milioni di morti. E quindi questa educazione è una diseducazione, non è un'educazione all'umanità. E lì si apre un tema enorme sulla Costituzione italiana, cioè questo è il grande tema. Cioè Paolo Maddalena, Mara Caracciolo, Marco Mori, Mario Giambelli, altri amici che veramente si stanno dedicando a studiare la Costituzione a fondo, beh, ci stanno rivelando con molta chiarezza che i costituenti avevano un'idea di io umano che è l'opposto di quello neoliberista. Pensa che Marco Mori, che sai che ha fondato un partito, Marco, sta progettando di fare una legge in cui viene considerato illegale ogni pratica neoliberista. Sai che nella Costituzione c'è la disposizione transitoria finale che dice non si può ricostituire il partito fascista. Bene. Allora i costituenti sapevano che il fascismo era stato un problema. Molti morti conoscevano in conseguenza di questo. Il fascismo aveva portato alla guerra. Benissimo. Ma i costituenti avevano la memoria sufficientemente lunga per sapere che il fascismo era la risposta sbagliata, ma una risposta a ciò che c'era prima. C'è un'altra catastrofe che era stato il liberismo. Quindi c'è stato il liberismo che poi aveva generato per le sue contraddizioni le risposte autoritarie dei regimi appunto dispotici, fascismo, comunismo, tutte queste cose, dopodiché c'è venuta la Costituzione italiana e i costituenti avevano ben chiaro questi passaggi. Quindi certo non il fascismo, attenzione, ma di per sé anche il liberismo. Infatti la Costituzione italiana su questo parte col piede giusto da subito. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma questo lo dice lunga. Cioè fondata sul lavoro, cioè fondata sulle persone e quindi non fondata sulla proprietà. Perché il precedente regime, comunque anche prima del fascismo, lo statuto Albertino, il bene tutelato fondamentale è la proprietà. Noi invece tuteliamo con la nuova Costituzione la dignità umana e il pieno sviluppo della persona umana. Quindi la Costituzione italiana, i costituenti avevano ben chiaro, come una democrazia possa essere tale soltanto se si rimuove ogni ostacolo di ordine politico, economico e soprattutto economico e sociale che impediscono ai lavoratori di fatto di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi la Costituzione parla in termini psicologici di pieno sviluppo della persona umana. Pieno sviluppo della persona umana e ce lo dice nei lavori preparatori molto chiaramente l'elio basso quando dice ma noi non crediamo più a un'opposizione individuo-stato, individuo-altri. Noi crediamo che l'io umano nella sua essenza sia un io relazionale. Cioè un io è un centro di relazione e dalla profondità e ricchezza di queste relazioni con cui si forma nasce la ricchezza e profondità della persona stessa e della sua felicità nella vita. Quindi l'elio basso questa chiarezza psicologica ce l'aveva già e con lui i costituenti. E Moro nel 47 fece un ordine al giorno applaudito da tutti i componenti dell'Assemblea Costituente in cui l'ordine al giorno il contenuto era. Dobbiamo fare in modo che le scuole di ordine grado, ogni ordine grado, da adesso in avanti insegnano i principi costituzionali. La Costituzione deve diventare materia di studio in tutte le scuole. Perché? Perché avevano chiaro che fino a quel momento il popolo italiano aveva vissuto dentro il modello servi padroni, servi signori, schiavi signori. Fascismo non solo, prima proprio così. E quindi che il modello costituzionale era una rivoluzione copernicana e che quindi il rapporto tra persone doveva essere impritato al principio della paridignità. Oggi dimmi se c'è paridignità nel lavoro. Io ho delle amiche, degli amici che hanno perso il lavoro, degli allievi che perdono il lavoro e vedo come vengono trattati. È una cosa che è inverosimile. Negli anni 70 è una cosa del genere. avrebbe generato un'insurrezione popolare. Oggi stanno tutti zitti perché hanno una grande paura. Tu sai che le Costituzioni sono state giudicate troppo socialiste proprio da JP Morgan e tre banche d'affari. Quindi in questo mondo, in questo pensiero ormai globalizzante che tende a sgretolare i confini le sovranità e le Costituzioni perdono anche di significato. Nel senso che noi oggi siamo in un Paese che ha una sua Costituzione ma rispondiamo alle logiche di altre elite che poi vengono e dominano la politica, lo Stato e le istituzioni. Da Mario Monti in poi è stato palese. In questo quadro come se ne esce? Dunque, intanto questo quadro lo si vede bene se si conosce la storia del neoliberismo. Nel neoliberismo c'è una corrente che si chiama l'ordoliberismo tedesco, con la scuola di Friburgo da una parte e con la scuola sociologista dall'altra. L'ordoliberismo è che dobbiamo occupare il luogo del diritto, quindi la politica per fare le norme che servono a noi. E ci sono riusciti benissimo, hanno dovuto attendere un po', bisogna tener conto che Keynes diciamo ha vinto la partita dopo morto, dopo il 46 quando è morto, fino agli anni 70 il keynesismo era ormai in tutti i paesi importanti, cioè l'intervento dello Stato nell'economia a favore della ridistribuzione era normale. Con la fine negli anni 70, soprattutto nel 79, c'è stata una svolta con il G7 in cui la solidarietà internazionale doveva finire, in Italia sai benissimo la storia dell'81, quel divorzio banca centrale, tesoro, così via. Allora, oggi ci troviamo di fronte a un'elite economico-finanziaria, un'aristocrazia, ma sarebbe meglio chiamarla oligarchia, perché non sono i migliori, sono i peggiori, i criminali, non possiamo chiamare aristocrazia quelle che sono un gruppo di criminali, i quali hanno occupato i luoghi dove creano le leggi insieme agli Stati. Abbiamo autori come il professor Gallino, morto recentemente, che ha scritto un testo da cui titolo già da solo dice tutto, colpe di Stato di banche e governi. Allora, gli autori responsabili sanno che è avvenuto un colpo di Stato, sanno che la Costituzione è formalmente ancora vigente, ma in realtà è del tutto disattuata. La Costituzione economica ormai è stata sostituita, la Costituzione economica di tipo keynesiano è stata sostituita da una Costituzione economica di tipo completamente diverso, neoliberista. Il punto su cui i giuristi, a mio avviso, più validi stanno puntando è che sì, questo è vero, ma la Costituzione italiana è ancora vigente. Cioè dal punto di vista formale, se i giudici italiani fossero educati alla Costituzione italiana, cioè la conoscessero davvero, cosa che spesso c'è da dubitare, perché l'università è cambiata negli ultimi 20-30 anni. Quindi i nuovi magistrati sono educati al neoliberismo in gran parte. Ora, alcuni magistrati però queste conoscenze le hanno. Allora tu sai benissimo che c'è una Corte Costituzionale e ci sono i magistrati. Per andare in Corte Costituzionale e portare le leggi trattate incostituzionali davanti alla Corte bisogna passare attraverso il magistrato. È una via che non è una via politica, è una via giudiziaria. E prima ancora bisogna passare attraverso le procure che devono accettare le denunce. Certamente, quindi bisogna che le procure accetti una denunce, che il magistrato valuti che quella legge effettivamente ha dei dubbi di costituzionalità e le rinvia alla Corte. Poi c'è il problema che la Corte Costituzionale purtroppo una parte è eletta, quella parte eletta più recentemente è formata di persone che sono già in parte neoliberisti. Quindi noi abbiamo l'organo di garanzia massimo, insieme al Presidente della Repubblica, che purtroppo al 50% è quasi ormai da quella parte lì. Allora sai che anche questa riforma Renzi tra le varie cose serviva anche a creare una possibilità di indebolire la Corte. Allora comunque finché in un Paese c'è una Corte Costituzionale, ci sono dei giudici, c'è una Costituzione vigente, un'insurrezione popolare che può nascere però solo grazie ai lavori che sei facendo tu. Io sono in uno dei luoghi oggi più importanti, perché persone come te che fanno la cosiddetta controinformazione, che dovrebbe essere detto più correttamente, informazione, sono gli altri che fanno informazione distorta. Tu stai facendo dialogare le persone più preparate in Italia. Ecco, questo lavoro che stai facendo tu e spero altri al più presto diffondano, è un lavoro decisivo perché il popolo italiano, ma anche le persone abbastanza accolte del popolo italiano, di questi temi sanno poco, molto poco o addirittura sanno solo cose distorte. Quindi perché anche il modello giudiziario possa prendere piede, cioè il modello di passare attraverso il vaglio dei giudici per arrivare alla Corte Costituzionale, ci vuole una base popolare che un minimo faccia sentire questi giudici non completamente da soli. Ecco. Un consenso. E ci sia un consenso. Quindi non è necessario nemmeno un grande consenso. Già, io immagino che già ci fosse in Italia 500 milioni di persone, ma non che sono critiche, ma che hanno le idee chiare su quello che sta succedendo, pian pianino in grado di spiegarlo anche ad altri, si formerebbe in tempo ragionevolmente breve, si potrebbe a macchia d'olio trasformare la coscienza di molte persone oggi. Allora si spera che valga la legge della massa critica, cioè raggiunto un certo livello, a un certo punto queste conoscenze si spargano. Allora, di cosa parlavamo? Allora, se la Costituzione è ancora quella di prima, dentro ci sono delle pillole avvelenate introdotte con, per esempio, nell'articolo 81 abbiamo, come sai bene, introdotto il pareggio di bilancio, suppressione alla BCE, votato praticamente da quasi l'unanimità del Parlamento. Il pareggio di bilancio è un articolo che è compatibile con gli articoli 35 e 47, coi primi 12, perché non stanno insieme. Quindi, di fronte a un'eccezione di costituzionalità, questo qui, se la Corte Costituzionale è ancora un organo affidabile, non può che crollare. Ecco, però, capisci, la opinione di magistrati per cambiare quelli che non hanno le idee chiare richiede molta formazione, richiede molto lavoro, come quello che stiamo facendo ora, richiede quello che, a mio avviso, è una formazione più chiara possibile. Adesso ti dirò uno dei progetti che ho in testa da molto tempo. Io ho iniziato a occuparmi di questi temi da molto, quindi sono ancora parecchio ignorante, tre anni e mezzo fa, diciamo. Ma ci sono voluti tutti, eh, per farmi un'idea dell'economia, della finanza e anche del diritto. Tra l'altro io ho segnato il diritto costituzionale, avrei dovuto essere privilegiato, ma quello che avevo studiato non è assolutamente sufficiente. Devo riguardarli in tutt'altro modo. Questi tre anni e mezzo sono voluti. Ora, è chiaro che io ho tempo per studiare, ho la fortuna di avere tempo, posso ridurre il lavoro quanto voglio, ci campo, sono a pensione, quindi non ho questo problema. Ma la maggioranza della gente lavora e quindi non ha tre anni e mezzo da spendere. E persone come me ho visto che ci mettono di più, cioè per essere competenti, veramente ci vogliono cinque, sei, sette anni. Allora, l'idea mia è, noi dovremmo creare un sito, e lo stiamo facendo, dove i migliori video e i migliori testi sintetici vengano messi in modo che le persone, non dico in tre anni e mezzo, ma in tre mesi e mezzo all'inizio, e via via diventando noi più bravi, in tre settimane e mezzo, e magari un giorno vorrà in tre giorni e mezzo, attraverso gruppi di studio, possano rendersi conto, a livello profondo, non superficiale, in che mondo stiamo vivendo. Perché allora gli uomini politici non avrebbero più la possibilità, come ha fatto Renzi, senza essere smascherato di fronte a tutti, quando ha detto abbiamo vissuto di sopra delle nostre possibilità negli anni settanta. Quindi il nostro debito era doppiato. Oggi dobbiamo fare le formiche, perché allora abbiamo fatto le cicale. Allora, se queste conoscenze che abbiamo in comune, e abbiamo fortunatamente in comune con più persone, fossero diffuse a qualche milione di persone, è chiaro che Renzi avrebbe perso ogni credibilità. Invece ha potuto continuare a parlare tranquillamente, era in presenza di De Mita, e De Mita non è riuscito a smascherarla, ammesso che lui lo volesse fare. Quindi noi ci troviamo di fronte a talk shows televisivi in cui queste cose vengono continuamente ripetute, ci viene detta la terra è piatta, la terra è piatta, la terra è piatta, lo dice anche lui, lo dice anche lui, lo dice lui. Per cui dire, no scusa ma la terra è rotonda, lo so perché l'ho studiato, lo so bene. Fake news. Adesso il progetto che stai delineando è un progetto che ha un aspetto giuridico di portare al riconoscimento dell'incostituzionalità di molte delle normative che sono state introdotte, ma ha ovviamente un aspetto di elaborazione del consenso, di costruzione di una cultura condivisa che è il grosso problema, che è stato destrutturato proprio da tutti questi anni di inganni, inganni globali e per costruire questo consenso ovviamente noi abbiamo vissuto un periodo d'oro, un piccolo rinascimento che è stato la disponibilità dei mezzi di comunicazione digitali peer to peer, cioè da persona a persona alla rete che da dieci anni a questa parte ha svolto un compito più che significativo, fondamentale, la possibilità che potessero fiorire canali alternativi dove fare dell'informazione, delle chiacchierate della cultura, che sulla televisione anche quella pubblica, quindi che dovrebbe servire a questo scopo proprio da contratto di servizio, non si riesce a fare perché si dà, anche lì si sottolinea l'aspetto della competitività per cui si creano programmi che devono competere con quelli della tv privata e quindi, che ne so, reality show, programmi di gossip, perché l'idea è quella che bisogna competere per cosa? Per attrarre gli investitori, quindi è un cane che si mora della coda, parliamo sempre di soldi, parliamo sempre di finanza, di speculazione, la cultura non c'è, se c'è è relegata di notte, ecco la rete ha svolto un compito stratosferico, fenomenale, una grande chiave di volta per la libertà, tanto è fondamentale che adesso, dopo che ha prodotto i suoi effetti nefasti rispetto alla classe dominante, che sono quelli per esempio del Brexit, per esempio del no referendum costituzionale, per esempio dell'elezione di un Presidente degli Stati Uniti d'America, piaccia, non piaccia, ma che è stato eretto dal popolo contro l'establishment, e qui si è come un glitch, un disturbo nel sistema, si è visto, si è vista, la manipolazione è emersa perché rabbiosamente con la bava alla bocca ha reagito, ha detto com'è possibile che noi abbiamo fatto del nostro meglio, e i cittadini hanno votato di testa loro, ma loro devono votare quello che gli diciamo noi, quello che dice il mainstream, dopo questa reazione furibonda il sistema, perché di sistema trattasi, parliamo di semplicemente lotta tra classe dominante, quindi c'è una classe che domina e che ha sotto di sé tutti i mezzi possibili e le risorse per continuare a esercitare questo dominio. Allora la reazione è stata quella di controllare la sorgente, il quasar che emette sorgenti impulsi luminosi di luce e di informazione, e controllarla come? Attraverso la stretta sui social network. Tu sai Mauro che la Commissione europea ha chiesto esplicitamente a Facebook per esempio di limitare la diffusione nominalmente delle fake news, ma poi la definizione di fake news è un capolavoro dell'arte del funambulismo, e in cambio ovviamente poteva promettere la chiusura di un occhio sulla questione finanziaria, sulla questione della gestione del busso di cassa, delle tasse, parliamoci chiaro, e tutti i grossi social network stanno correndo ai ripari, per esempio Facebook non soltanto ha annunciato la costituzione di questi organismi che poi vengono finanziati un po' come l'ONG, sempre dai soliti noti, che si faranno carico di definire che cosa è vero e che cosa è falso, ma anche toglierà dalle timeline, cioè dal flusso di notizie principali degli iscritti, le notizie che non provengono ad attestate verificate, cioè ad attestate online, la stessa cosa sta facendo YouTube che ha cominciato innanzitutto a disabilitare la monetizzazione dei contenuti che risultano sgraditi, che non sono soltanto quelli dove si incita all'odio, alla violenza come vogliono far credere, ma sono anche quelli dove si parla di politica, perché la politica è sgradita, io mi ricordo sedute, memorabili, interminabili, discussioni infinite di politici vecchio stampo, per esempio facciamo un nome Pannella che poteva parlare per ore, potresti essere d'accordo con lui o no, ma affascinandoti con l'arte della sua retorica, quindi il luogo sacro della condivisione, della crescita culturale di un paese è la politica, la politica per YouTube è considerata un aspetto deleterio che genera un respingimento da parte degli investitori pubblicitari e poi strumenti sempre più restrittivi, ci sono dei tastini, delle modalità in cui tu puoi guardare YouTube senza queste sgradevoli conversazioni fra Claudio Messore, Mauro Scardovelli, ecco quindi la tua strategia che è quella di sensibilizzare le persone distribuendo, diffondendo una comunicazione pervasiva, una crescita culturale della consapevolezza, in questo momento subisce una pesante aggressione proprio da chi prende la rete, grande strumento di libertà e senza che poi tutto sommato in molti si oppongano, la riduce a un format televisivo dove chi non si adegua ai contenuti che devono essere comunicati viene progressivamente spento, tecnicamente non censurato, perché gli utili idioti che difendono questo sistema ti dicono che non si tratta di censura perché il tuo contenuto è disponibile, ma sarebbe come dire la RAI produce un documentario ma non lo trasmette via etere e se tu non te lo vai a prendere con la videocassetta nei suoi archivi non lo vedi, non è censura, il documentario è disponibile, ma te lo devi andare a prendere. Ecco, questo è quello che sta succedendo Mauro, è una reazione rabbiosa, furibonda, io credo che troveremo il modo di superarla, però dobbiamo fare i conti con un momento molto buio della storia culturale, non soltanto italiano ma a questo punto europeo mondiale. Beh, direi che da un certo punto di vista è una buona notizia, perché se non facessero così vuol dire che non contiamo niente, cioè, no, voglio dire, è una buona notizia che ci prendo in considerazione, perché ci considerano minimamente pericolosi. È chiaro che il neoliberismo non si fa, questo modello non si fa mettere i piedi in testa a nessuno. Beh, importante oggi è la crescita della consapevolezza umana, perché su questo tema sono d'accordo tutti gli autori. Penso che anche Keynes e Hayek hanno trovato un punto di accordo completo. Prima viene l'etica e poi c'è l'economia. Oggi l'economia è completamente staccata dall'etica. Allora, quando parliamo di consapevolezza, di coscienza, dobbiamo intenderci, tendo per coscienza la consapevolezza di sé, di quali sono i nostri moventi interiori e comprendere quando i nostri termini, sto parlando dei modelli che usiamo noi, siamo nella nella struttura dell'anima nostra, nella nostra costituzione vera e quando invece agiamo in modo distorto, chiamiamo il secondo modo quello egoico. Allora, l'anima nostra, umana, tende a fare così, tende a convergere, a andare in una visione comunitaria delle cose. Pensa che dal punto di vista della fisiologia noi siamo una comunità, siamo una comunità di trigliardi di cellule. Ora, se per un attimo la biologia governasse noi come noi governiamo la polis, moriremo subito. Siamo tutti pieni di conflitti. Allora, il punto centrale è proprio questo, passare da una distorsione di questo tipo, cioè verso il basso, verso la creazione di continui conflitti, la prolifrazione di conflitti, a un altro modo di pensare, e questo è così importante il discorso che abbiamo fatto prima, sul maschile e il femminile. Coniugare insieme il maschile e il femminile, l'intelletto e il cuore, la visione e il sentire, che da un certo punto di vista, cito una grande mistica del 1200, Margherita Porena, parlava dei due occhi dell'anima, l'intelletto appunto e il cuore. Ecco, lì noi raggiungiamo l'apice della razionalità umana. Quando invece l'intelletto si stacca dal cuore, si stacca dal sentire, lì entriamo già in una forma specialistica. La specialismo degli specialismi è quello di essere scissi dal nostro sentire primario, dal nostro cuore, dai nostri affettività primaria, perché l'affettività primaria è quel luogo dentro di noi dove le conflittualità tendono a sciogliersi. Una buona madre è in grado di avvicinarsi un bambino piangente, pieno di paura e semplicemente con la sua presenza lo rassicura. Ora noi siamo grandi, siamo adulti, ma come un bambino ha bisogno di una base sicura, altrettanto ne abbiamo bisogno noi grandi. Certo, non abbiamo bisogno nelle stesse modalità, ma tutti noi abbiamo bisogno di sapere che intorno a noi c'è qualcosa che ci protegge dai pericoli che sono insiti nella vita umana, dalla fragilità. Tutti siamo esseri molto fragili, da un momento all'altro ci possiamo far male, sia io che te ci siamo fatti male, poteva andare peggio. Ecco, la fragilità è quel tema che ci unisce tutti ed attraverso la visione appunto delle qualità dell'essere, della compassione, noi possiamo diventare nello stesso tempo intelligenti a un livello profondo e nello stesso tempo anche efficaci, da un punto di vista tra virgolette economico. Apro qui una parentesi, Gandhi si è occupato di economia, ha studiato l'economia oltre che il diritto, ha studiato in particolare un economista inglese che si chiamava Ruskin, il quale parlava dell'economia per il benessere di tutti, nessuno escluso. L'economia del futuro, se ci sarà un futuro, sarà quel tipo di economia, non l'economia degli esclusi a vantaggio dei pochissimi, ma sarà un'economia che include tutti gli esseri umani. Questo è il futuro che sicuramente raggiungeremo oppure passeremo attraverso delle crisi sempre più grave. La separazione col femminile e anche la separazione dalla natura fanno parte dello stesso enorme disagio che l'essere umano oggi ha. Il tema si ampli all'infinito, quello che posso dire è invitare le persone a veramente informarsi sulla rete, sui libri, i libri ci sono, sulla rete ci sono ottimi video, tu stesso hai fatto ottimi video, ci vorranno altri video più approfonditi su aspetto psicologico, qui a Milano avrete la possibilità gratuitamente di passare una giornata con una delle psicoterapeute più competenti che conosca, insieme, in cui parleremo sia della psiche sia dei suoi risvolti nell'economia e viceversa e nella politica. Sono temi che interessano tutti perché tutti abbiamo figli, tutti abbiamo parenti, tutti abbiamo amici, tutti abbiamo rapporti con altri esseri umani e col mio messaggio quindi è partiamo dalle relazioni umane, partiamo dall'io relazionale e in primo luogo smettiamola di competere con noi stessi, con gli altri, con i vicini, con gli altri, con gli altri agenti nel mondo e cominciamo a capire che il futuro sta in una nuova umanità, come diceva, dice molto bene Marco Guzzi nei suoi testi, una nuova umanità che si risveglia un'intelligenza di livello più alto. E con questo io vi saluto e spero di rivedervi presto, chiunque sia dall'altra parte in questo momento del video, perché il lavoro da fare insieme è veramente grosso, c'è bisogno di tanta gente che è disposta ad impegnarsi. I prossimi incontri di questo tipo saranno a Milano con la Giuliana Ammieri, poi ci sarà un incontro a Firenze vicino con Galloni tre giornate in cui anche Galloni verrà messo in questo contesto in cui gli si chiederà qual è la sua visione dell'uomo, qual è per cui parla di economia solidale e così via. E questo tema lo tratteremo con tutti i grandi economisti che abbiamo in Italia e con tutti gli esperti di finanza, perché grazie al loro contributo di persone umanamente non fallite, ma anzi riuscite, potremo aiutare tutti voi ad avere una visione futuro assai più rosea di quella di adesso. E con questo vi saluto a tutti, vi auguro buoni bene. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.